Miss Italia 2020 è Martina Sambuscini, è una ragazza di 19 anni di età e di frascati, ci troviamo nei castelli romani e dopo 27 anni di tempo la colonna torna a scintillare in quel della capitale. Una nuova edizione andate in onda nel pomeriggio del studio ufficiale sul canale youtube e nel profilo facebook della manifestazione di bellezza per l'eccellenza per la prima volta si è svolta a Roma. Presidente della Giulia il buon Paolo Conticini ha con loro il grado evento Margherita Pratico e il bravissimo Alessandro Greco. Insomma è stata lei la regionetta per eccellenza, questa bellissima ragazza alta 170 cm, occhi verdi, capelli lunghi di colore castano numero 81 della fascia, è letta in questa edizione speciale condotta da Margherita Pratico e Alessandro Greco, trasmessa in streaming per colpa del covid-19. La ragazza è nata a Marino, risiede però a Frascati, promata da un liceo linguistico, è letta a Miss Roma già nel 2020. La ragazza ha appena ricevuto questa importante notificenza, ha detto non ho tante parole al momento, sono molto emozionato, stento a crederci, ringrazio tutti quanti per questa esperienza meravigliosa. Penso alla mia famiglia che era sicuramente in ansia, ho pensato subito a loro, sono felice, spero di non deludere nessuno. Complimenti carissima Mattina Sambucini, il video termina qua, questo video non vuole vedere la sua privacy né di altre persone, ma solo informare. Tanti auguri, buona vita a te e complimenti.